E si è bloccata? No, ok, prende Ok, ci ho fatto E ci ho fatto, vi ho avuto il nuovo video Ehm, ecco da Ehm, siamo su Wands of Bombs E Giochiamo, gioco io da Già un giorno, sono messo Bene, le mie armi sono Questa, e io ho modificato La skin, poi senza skin Questa, e però io li metto Questa Poi, come fucile a canna doppia Sarebbe un fucile a pompa Prima avevo questo, ora questa qua Io ho cambiato anche questa skin Poi ho come cerchino Il veterano, come mitragliatrici C'ho il buco, per esempio La skin, la pistola Io non la cambio E come coltello Poi, non ho la roba In testa, la corazza Però ho la corazza, il vetto Poi servono 3.600 per potenziarla E poi, le gambe non le ho Ho una maschera che sarebbe qua qui E poi si possono comprare Sia dei bombe che del culo Io mi compro le bombe perché non mi mancano Ho 529 trofei Questo è il mio cranno 529 trofei Sono livello 8 E devo cercare di completare una missione Facciamo due partite Che durano tanto Per questo bobble Quindi facciamo le partite Quando la trovo ci vediamo Iniziata Io utilizzo sempre la scarsa morte Perché è un pochissimo potenziato Anche senza potenziare Consiglio di fare con questo qua Di colpire Se non volete colpire la testa Se volete colpire la testa Utilizzate il bucol O l'altra prima Se volete colpire danni Senza colpire la testa Colpite con questo Questo fa 336 424 Siamo morti Grande Poi ci sono anche dei cure Le bombe Le cure Vabbè Ti curano Le bombe Fanno danno Però Fanno mille di danno E si ha poca vita E mi sta uccidendo E non c'è da giù una bomba E è venito lo scontro Vediamo questo Vediamo questo 628 101 Non mi ha nemmeno colpito Sì sì Ci sono Ah ahia Aia Cuiamoci Ok Ma perché colpisci me Colpisco la distanza con questo Ah godo Ricarichiamo il pompa L'imensione di ricaricare Per ricaricare il pompa È bellissimo Carriamoci di nuovo Ovviamente finiscono Non sono infinite le cure Aia Aia la bomba Boom Miglia di danno Morto Ah Ci sono questo qua dietro Qua la ghigliottina Io non ho ancora L'ho potenziata La ghigliottina Però Wifi party Però Se volete fare colpi a distanza Non la utilizzate Se volete utilizzare L'arma principale Utilizzate Quella dopo Perché incendia anche E' fortissima Quella che costa 11.000 Dopo vi faccio vedere Allora Perché si è bloccato Oh Oh Allora Sto sicuro Cura Ti fai bene Oh Ucciso 12 punti E' bello Siamo in vantaggio Siamo in vantaggio Morici Morici Che due maroni L'hanno ucciso Quello che hanno ucciso Me Quando Qualcuno vi uccide E uno dei vostri compagni Uccide Quello che vi ha ucciso Voi Ok L'ha fatta Vi arriva L'assistenza Cripo Da più Che punti Che servono Alla squadra Ora mi parla Che perché Ha segnato Il Napoli Boom Quanti l'ha uccisi Scappo 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 Non è vero Combatto Non è vero Combatto 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 Boom Boom Non sai colpire Haha Sfigato Non c'è una bomba Sposta qua E buttaci questa Ci sono con granata Ma perché non gli faccio danno Sta merda No Muoio Eh Siamo in vantaggio Siamo in vantaggio Siamo in vantaggio Iniziamola Uh C'hai uno Maria io esco E' morto uno Questa qua Questa qua è una mappa Che fa schifo Ecco Quell'arma che ho utilizzato Questa qua è il bufalo No in realtà non penso che mi ha ucciso Quello là che mi ha incendiato Che avevo le fiamme Era quello là L'arma L'arma principale Quella che costava sempre 11.000 La che vi ho spiegato prima Esistenza critica Boom Guarda Seguiamo qualcuno Aiutiamolo Seguiamo lui Fammi da scudo mano Però ok Ok Seguiamo lui Perché c'ha più vita Utilizziamo lui Come scudo mano Ecco Quell'arma che c'è lui Quella là E' l'arma che vi ho spiegato io Esistenza Dei punti Questa qua Fatti vedere Ecco Quella che è mano Questo Quello là è il bufalo L'ho ucciso L'ho ucciso Andiamo 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 Mi ricaricare pure a me Sennò dopo è una palla Ancuno 26 Di vita di scudo Io gli lancio una bomba Li distruggo No Come mi hanno ucciso Vabbè Ovviamente con un'arma E non è che mi hanno ucciso Non è nudo Però Con la pistola La vinciamo La vinciamo 1 Abbiamo vinto Abbiamo vinto 347 314 Io sono arrivato Primo Con 119 uccisioni Più 40 trofei 400 per salire di livello 315 Di soldi Ecco Personale Questa qua Pungolo Però l'affettatore È più forte Quindi se non mi volete Umbrare una delle due Costano un sacco di soldi Si diceva Si lo voglio potenziare E richiede livello 10 Va bene Facciamo un'altra Così si apriva pure La caff Ok Facciamo questo E poi finiamo Oppure Penso che ce ne facciamo Almeno 10 Questa mappa La odio La odio La odio No Qua sopra Vi potete mettere A cecchinare Perché L'arma Per questa mappa Sarebbe il cecchino Perché ogni Mappa Ha un'arma Che fa più danno In questa mappa Di esempio Fa il cecchino Ma Quella posizione Questa qua Dovrebbe essere La base Per La odio Ma abbiamo Un'altra Ma che era armato E non va bene Cazzarola Muorici Merda Madonna mia È morto È morto È morto È morto Curati 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 Lancia io una bomba No Le spalle Che merda Vai In fu Madonna Stiamo vincendo Vinciamo Vinciamo La vinciamo La vinciamo Cosa ho detto La vinciamo Dai 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 È morto 160 La battita di calcio Non può durare Così tanto Da Finire 160 L'ho mancato Che cacchio Schifo Mi stavo lanciando La bomba Se io la lanciavo Avevamo Faccio un'altra uccisione Ecco il E' cambiato Bule skill Uccidiamo a questo Uccidiamo a questo No Sì l'ho ucciso io Mi ha rubato la kill Vai Boom Lancia la bomba Boom Uccisione granata Attenta a questo Attenta a questo L'ho ucciso L'ho ucciso Boom Mori Curati curati Fammi da scudo a mano Vai Da distanza da distanza Da dove No alle spalle Che merda Guarda che vigliacco Non ce la fa nemmeno a passare Sto vigliacco Dai 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 dobbiamo vincere Dobbiamo vincere è morto lo ucciderò io però che palle sono scocciatura 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 il pungolo possiamo prendere ma noi lo prendiamo ucciso vai fammi la scudo mano è morto sta merda oh non è morto donna muorici tu no le spalle uccidilo mi ha acceso con l'arma prima del pombo ok dai 390 vabbè abbiamo vinto ormai 390 238 no io ho lanciato la bomba non è morto muori merda l'abbiamo vinto poi ovviamente quando si arriva a 500 l'oro stanno prima oppure l'oro arrivano a 500 noi stiamo indietro si vince subito senza che aspettiamo che scade il tempo ok quindi si uccide lui ancora punti andiamo a uccidere ancora un bel po' oh boom uccido questo uccido questo uccido questo maia abbiamo finito le bombe boom boom altra uccisione manca l'ultima uccisione abbiamo vinto oppure altri due oh ce n'è una qua muori ok abbiamo vinto furia amicida primo di nuovo con 239 kill wow eeeh oh eccola con la cassa e stemma stiamo apriendo un'altra e perchè me l'ha annullata la volevo aprire vabbè quanto vuol eh non so oh no non la possiamo aprire ancora vabbè stiamo a 604 gli amici che ho io sono ancora qua ovviamente ora non c'è nessuno sull'online lui che ha anche un canale youtube lui e lui che è senza clan potrebbe entrare anche nel mio però non intro ok io abbiamo vinto due partite siamo all'interno quasi piena va bene si padrone si padrone stiamo qua il video finisce qua e ci vediamo nel prossimo episodio video vabbè ciao